Presentata la 719esima perdonanza celestiniana che si svolgerà all'Aquila dal 23 al 29 agosto prossimo. Un evento storico religioso unico al mondo e che trova origine nel lontano 1294. L'edizione di quest'anno sarà l'insegna della sobrietà, come la situazione generale del Paese e quella particolare dell'Aquila impongono, ma non mancheranno le novità. Sobrietà intesa come anche rivisitazione storica, quindi asciugare le celebrazioni legate alla perdonanza e quindi rivisitare in maniera tale da poter essere molto aderenti sia al messaggio celestiniano sia a quello che debbano rappresentare i singoli elementi delle celebrazioni, a cominciare dal corteo e a cominciare anche dalla unitarietà del messaggio che quest'anno è imperniato sulla riconciliazione. Una riconciliazione che riguarda sia il messaggio di Celestino sia più in generale la necessità di ritornare ad una coesione sociale nella nostra città così dolorosamente scommolta dal terremoto. Tra le tantissime novità, ma questo abbiamo detto che è una edizione di transizione per arrivare al 2014 con una configurazione, una connotazione molto aderente al messaggio e al rigore. Già dal 2013 tuttavia stiamo introducendo una serie di correttivi e per esempio quello di fare in modo che sia il sindaco ad incontrare l'arcivescovo sul sagrato del Duomo e quindi da questo incontro che cosa capiterà? Capiterà che l'arcivescovo andrà insieme al sindaco fino alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, cosa che negli ultimi anni non era più accaduto, così come sarà il sindaco a portare la bolla perché tra l'altro il sindaco consegnerà la bolla per due giorni alla parte spirituale, alla chiesa e poi tornerà di nuovo la bolla ad essere ricustodita dalla municipalità. Però in questo passaggio è chiaro che c'è anche la base di uno studio anche qui legato alla scientificità e al rigore storico perché riteniamo, e questo sarà poi il senso da dare alla perdonanza al 2014, che la dama della bolla che quest'anno ci sarà ma sarà comunque di ausilio al sindaco probabilmente è un approfondimento storico che è ancora necessario ma che ci consentirà anche di superare questo aspetto del corteo. Come altri aspetti della perdonanza e delle celebrazioni, sobrietà significa anche rispetto dei luoghi. Rispetto dei luoghi Santa Maria di Collemaggio noi dobbiamo attribuire e restituire la sacralità il giorno 28 in particolare ma in tutto il periodo delle celebrazioni della perdonanza quindi il Parco del Sole sarà escluso da un contesto diciamo di spettacoli, da un contesto musicale perché si sposterà, questi eventi saranno spostati in altri luoghi della città perché è giusto peraltro che torni a rivivere anche nella speranza e con questo auspicio di riconciliazione e di coesione sociale e che tornino a vivere i luoghi del centro della città e quindi ci sarà Piazza Duomo, ci sarà di nuovo la scalinata di San Bernardino, ci sarà Piazza del Teatro, ci sarà San Bernardino stesso, ci saranno l'auditorium di Renzo Piano, ci saranno altri luoghi dove comunque ci sarà San Basilio, altri luoghi dove comunque verranno realizzate una serie di manifestazioni, di spettacoli, convegni, mostre e quant'altro che animeranno la città nella logica di una festa che però sia molto rispettosa del messaggio religioso e spirituale. In nome dell'austerity ma anche della trasparenza sono stati resi noti i principali sostenitori e organizzatori in primisi la Regione Abruzzo, presente alla conferenza stampa con il Vice Presidente del Consiglio regionale Giorgio Di Matteisi. 80.000 euro è quanto costerà il Comune dell'Aquila sul nostro bilancio, 80.000 euro dalla Regione Abruzzo, una base di 15.000 euro come dichiarato dall'assessore Liris per quanto riguarda la provincia, ci sono 20.000 euro per quanto riguarda la Fondazione Cassa di Risparmio. Questo è il budget a cui poi si aggiungeranno una serie di sponsorizzazioni ma la base della perdonanza sobria è questa, anche perché poi siccome il Comitato perdonanza non sarà un comitato che cesserà come gli altri anni il 31 di agosto ma continuerà perché inizieremo già a settembre la nuova fase, l'incontro con le scuole per fare in modo che questo comitato che sarà permanente costruisca il futuro della perdonanza soprattutto con i giovani, con le scuole, con la cultura, con la formazione e quindi anche qualcosa che pure debba rimanere in cassa, un portafoglio che ci consenta di svolgere, di creare questo momento non puntuale ma un momento che transiti su tutto l'arco dell'anno ovviamente ha bisogno per le iniziative anche di qualche minimo di risorsa economica. Per quanto riguarda i costi, la mannoia è un'amica della nostra città che ancora una volta si mette a disposizione ma così come abbiamo avuto la capacità in generale di ridurre il più possibile anche i costi per un rispetto anche al grande disagio che stiamo vivendo, per un rispetto alla mancanza di lavoro, per un rispetto in generale anche a coloro che stanno soffrendo in questo momento sia per il sisma ma sia anche più in generale per una crisi complessiva. Quindi una sobrietà anche legata a questa pur senza rendere povera la perdonanza di parte ludica e di spettacoli perché ci saranno in questa settimana tante iniziative, per esempio ci sarà la Banda Osiris, per esempio ci sarà il Maestro Vinze Tempera, per esempio ci saranno artisti locali come per esempio Sale Chiodato, per esempio ci saranno tutti i cori, i cori degli alpini che ci saranno per tre serate consecutive, ci saranno tante altre iniziative di diversa natura che adesso non stiamo qui ad approfondire perché sarà oggetto anche della presentazione ufficiale attraverso altri momenti di comunicazione che vorremmo che fossero assolutamente utili a fare in modo che ci sia anche un livello di partecipazione della città alla evoluzione della perdonanza edizione 719. Come ogni anno il momento cru si avrà il 28 e 29 agosto quando, rinnovando il rito della perdonanza celestiniana, si avrà l'apertura della Porta Santa della Basilica di Colemaggio, una tradizione che neanche il tremendo terremoto di 2009 è riuscito a interrompere.